Ladies and gentlemen, let's welcome to the Queen of Pop, the greatest of all time, the best in the universe, tonight for you, Annalyza! Mamma, vai! Ma poi ho detto alla faccio! Sì, vabbè! Mi sono mancata! Ma guarda, un po', si stava bene! Anch'io mi sono mancata! Addirittura! Siate sinceri, è dura quando non ci sono, vero? Sì, è una vita, ma... Avete mai pensato, carino quel giugno, eh? E invece... E Angelina, brava, eh? Ma niente di che, vero? Ma insomma... Perché è l'unica cosa che avete bisogno... Eh, cos'è? Di cui magari avete bisogno... E Angelina, magari l'italiano... Cosforescente! Ma cos'è? Ehi, addirittura! Cosforescente! Come cosforescente? Non c'era la cosa! Ehi, più bollente! Ma poi, più bollente! Ti ha studiato, hai capito? Sì, perché lo dì? Sì? Si prova da una vita a fare ball dance! Io mi ci sono messa l'altro ieri! E guardate che faccio! L'altro ieri! Senza fare alcuno sforzo! Beh, brava, dai! Fermi tutti! Che cosa? Sì! Posta pelfica! Pampano del jalapascio! Cosa c'è? Poi Maria Cielo! Per Annala Isa! L'unica che sa fare ball dance! Sì? E intanto... Sfarsi i piedi! Ma come? Di fare pedicure? Cosa fa? C'è un aiuto, eh? Non lo so, forse è squalificata! Lo smalto, però... Lo smalto! Ma cosa? Ho perso l'orientamento, cazzo! Non ci hai detto! Tieni! Non ci credo! Annala Isa! Anche io! Nasco! Sì? Come estetista! Ah sì? Non era laureato in fisica! Ma le fa tutte, eh? Oddio! Mi sono fatta male alla scapola! Ah sì? Mi autocurerò! Perché io sono il mio strappata di fiducia! Certo! Annala Isa! Ricordiamo! Dove è stato? Dove è stato? È stato al bar! Alla parte! Cosa ne rimarrà? Già l'appascio!